Allora, siamo con Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verde e Sinistra, la maggioranza va sotto la richiesta di scostamento, un fatto grave? Gravissimo, anche inedito, non era mai successo nella storia della Repubblica. Il Parlamento ha bocciato lo scostamento e quindi in questo momento saltano tutti i provvedimenti economici del Governo. È naturale che la Meloni debba venire in aula a spiegare e probabilmente che molti deputati della destra debbano chiedere scusa per la loro sciatteria, per il fatto di non essersi presentati. Sta di fatto che l'Italia, in mano a questi incompetenti, è in pericolo e purtroppo quotidianamente preda dell'instabilità.